Salve ragazzi! Allora, come potete vedere davanti a voi c'è la copertina di questo libro, scritto dalla giornalista dell'Arena di Verona, Paola D'Alicani, Come passeri sperduti, che praticamente raccoglie le memorie del partigiano Egno Trivellin, un ragazzo che nel 1944 aveva 16 anni e frequentava l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Verona. Egno Trivellin, che è stato anche ospite della nostra scuola, l'Istituto Comprensivo di Paese, negli anni passati, in quel tempo aveva organizzato insieme ad alcuni suoi compagni dell'Istituto ed altri, del liceo classico Maffei e del liceo scientifico Messe D'Aglia, un vero e proprio gruppo, un battaglione di giovani resistenti, di giovani partigiani, che cercavano di combattere in ogni modo appunto l'invasore nazista e il regime fascista. Quindi vi presento questo libro perché? Per due motivi molto importanti. Questo libro è legato alla data del 23 aprile, che è la data del compleanno di Egno Trivellin, un compleanno che il partigiano non ha mai festeggiato perché dopo essere stato arrestato con i suoi compagni, malmenato, picchiato, torturato, rinchiuso nelle celle del forte di San Leonardo, sarà spedito insieme al padre al lager di Bolzano e successivamente con i suoi compagni nel lager di Mauthausen. Lui fortunatamente ce la farà, ritornerà, mentre i suoi compagni Valentino Rosà, Francesco che esta, Eliseo Gobelle, Umberto Sitta, periranno appunto di fame, di stenti e saranno anche trucidati alcuni di loro nella giornata proprio del 23 aprile. In quella giornata un suo compagno appunto sarà ucciso, suo carissimo compagno Eliseo Gobelle, e quindi da quel giorno Egno Trivellin non festeggerà mai più il suo compleanno. La data del 23 aprile quindi è legata fortemente al protagonista di questo romanzo, ma è anche una data importante per noi, nel mondo della scuola, perché è la giornata mondiale del libro, del libro d'autore, che è praticamente patrocinato dall'UNESCO. UNESCO appunto, vi ricordo, l'associazione, l'organizzazione delle Nazioni Unite, che si prodica, va bene, per l'educazione, la scienza e la cultura. Quindi il 23 aprile è anche una data molto vicina a quella del 25, capite bene, in cui regolarmente le scuole sono chiuse perché si festeggia la vittoria della resistenza sui nazifascisti e quindi la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. La data, vi ricordo, che è quella simbolica di liberazione della città di Milano, che poi è stata istituita appunto come giorno di festa nazionale. Quindi io vi lancio questa iniziativa, questa proposta, per festeggiare la giornata mondiale del libro, vi invito a scegliere un romanzo che avete anche già letto e a fare una breve presentazione, che non sia più lunga di un minuto, un minuto e mezzo, e di inviarmela con i mezzi che voi conoscete. Terro conto di questo lavoro anche in funzione degli esami che, come sapete, molto probabilmente saranno in videoconferenza. Quindi spero di avervi fatto cosa gradita. Ricordandovi che il 23 è una giornata molto importante per la lettura e il 25 è una giornata molto importante per la libertà dell'Italia, io vi saluto, aspetto i vostri lavori e vi do appuntamento alla prossima video-lezione su Meet. Ciao!